Un saluto a tutti gli operatori del Pascale e questo messaggio è rivolto soprattutto al professor Palo, le vogliamo dire che siamo molto orgogliosi, noi siamo vicini al Pascale per ragioni in passato dolorose, però insomma siamo rimasti vicini alla struttura, veramente complimenti, siamo molto fieri, lei da napoletana. Io fierissima, fierissima, sono i napoletani, io da napoletana acquisiti perché mezza famiglia mia ormai è diventata napoletana, quindi veramente, veramente tanti, tanti, tanti complimenti, un saluto. E in bocca al lupo per questa sperimentazione, speriamo che sia la strada giusta per tutti noi. A lei e a tutti quelli che al Pascale lavorano e diciamo si spendono tutti i giorni. Ciao!